Come in ogni stagione estiva, l'emergenza incendi rappresenta una realtà per il territorio della Sicilia orientale. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è al lavoro H24 per affrontare le chiamate al centralino Rovente del 115. Le condizioni climatiche non agevano certamente le attività di contrasto, principalmente agli incendi di bosco, di sterpa, agli incendi di interfaccia in termini generali, che sono alimentate dalla siccità, dalla secchezza, dal grande caldo, dalle condizioni a volte anche di presenza del vento, ma che anche sono promosse a volte da comportamenti un po' incauti di noi cittadini. Per cui noi chiediamo vivamente alla collaborazione e alla maggiore attenzione da parte di tutti affinché gli eventi incendio siano per quanto possibile marginalizzati. Le risorse sono sufficienti a garantire gli interventi? Qualcosa sulla carenza degli uomini a Catania è stata fatta. Dal giorno 20 noi abbiamo avuto un potenziamento degli organici, non tale da portarci in piena pianta organica, però certamente siamo in minore sofferenza. Registriamo ancora una fortissima carenza di personale qualificato, cioè il personale che svolge poi la funzione di capopartenza e che guida sulle operazioni di soccorso la squadra. La prevenzione per gli incendi non riguarda solo l'esterno, ma anche la funzionalità del proprio domicilio. La tragedia di Via Leocatia, dove ha perso la vita una donna lo scorso 18 giugno, deve far riflettere. Sono questi eventi drammatici che però devono far riflettere su come anche le nostre abitazioni possono essere elemento di forte insicurezza. Proprio per questa ragione le nostre abitazioni, gli impianti, la tecnologia che noi abbiamo all'interno delle nostre case deve essere goduta e fruita però in maniera tale da non arrecarci problemi particolari. Quindi massima attenzione a che gli impianti elettrici siano non solo realizzati a norma, ma gestiti anche in maniera oculata.